Il Consiglio regionale Lombardia Il Consiglio regionale Lombardo ha deciso, gli ex consiglieri che ne faranno richiesta potranno riavere i contributi versati negli anni del mandato. La cifra complessiva monta a 15 milioni di euro. La Guardia di Finanza di Milano ha effettuato un maxi sequestro di 15 milioni di oggetti pericolosi made in China, stipati, immessi, capannoni e lacchiarella e quattro cinesi sono stati denunciati. In un duomo aperto solo ai sacerdoti, l'arcivescovo Scola ha delineato le linee future della chiesa di Milano. La lettera pastorale si chiamerà il campo e il mondo. Buonasera e buonasera anche dal TGN, benvenuti a questa edizione che apriamo ovviamente con le elezioni comunali. Primo turno per queste elezioni amministrative che hanno visto il crollo del Movimento 5 Stelle mentre il Partito Democratico ha resistito abbastanza. Quindi c'è un leggero vantaggio del centro-sinistra rispetto al centro-destra anche se quattro comuni su cinque andranno al ballottaggio. I dati più eclatanti però riguardano l'astensionismo, il vero vincitore di queste elezioni e come dicevamo in apertura il crollo del Movimento di Grillo, il Movimento 5 Stelle. Sentiamo Stefano Fumagalli. Alle urne, questa volta tra matite e schede, ci sono andati in pochi, uno su due, tra gli aventi diritto. Questo nonostante il voto amministrativo sia solitamente sentito dagli elettori chiamati a eleggere il proprio primo cittadino. E chissà come sarà la situazione tra due settimane quando quattro comuni su cinque saranno richiamati alle urne per i ballottaggi e se il meteo sarà finalmente clemente rischiano di toccare un brutto record di partecipazione minima. Intanto però i dati del primo turno consentono di valutare la prestazione un po' sopra le attese del centro-sinistra che riesce ad essere avanti in tutti i comuni della provincia di Milano tranne Bareggio. In certi casi deludendo un po' come a Cinisello dove sono passati i tempi della vittoria al primo turno. Così Siria Trezzi non ha fatto eccezione pur con un largo 46% contro il candidato di centrodestra Enrico Zonca, fermo al 26%. Al ballottaggio anche Bresso tra Vecchiarelli e Radaelli rispettivamente al 35-31%. Così come Bareggio dove avanti però il centrodestra con Scurati contro Lonati. Anche Brugherio andrà al secondo turno ma con ampio margine per Troiano PDSL contro Ronchi della Lega Nord ascesa in campo divisa dal PDL. Su tutte le statistiche pesa oltre al dato dell'astensione quello del flop a 5 stelle assente da ogni ballottaggio con consensi dimezzati rispetto a soli tre mesi fa. Intanto sono sette in provincia di Milano i nuovi sindaci già eletti, sei dei quali nei comuni a turno unico. Il solo comune sopra i 15.000 è Arese che festeggia il nuovo sindaco Michela Palestra. Centrosinistra a Calvignasco è riconfermato Matteo Motta della lista insieme per Calvignasco. A Cisliano vince Luca Duret della lista civica impegno per Cisliano. Angela Comelli vince a Bellinzago con la lista Vivere per Bellinzago di centrosinistra. Secondo mandato a opera per il sindaco Ettore Fusco della Lega Nord. Basilio ha eletto Eugenio Patrone della lista civica l'Officina di Basilio. Pierino Garbarelli vince a Zibido San Giacomo con la lista civica impegno comune. Tra le città più grandi in Bilicolodi e Brescia a Sondrio invece la spunta Molteni al primo turno. Eccesso di soddisfazione ovviamente in casa del centrosinistra del Partito Democratico per i risultati ottenuti. Il centrodestra arranca, infatti il coordinatore regionale Mantovani critica le eccessive divisioni interne, secondo lui responsabili del fallimento in qualche modo del PDL. E la Lega Nord invece crede che la rimonta sia ancora possibile. Sentiamo Massimo Scarizzi. Il giorno dopo il voto per le elezioni amministrative che hanno interessato 95 comuni Lombardi è tempo di bilanci. Centrosinistra soddisfatto per i risultati del primo turno, soprattutto per i segnali arrivati da Brescia che andrà al ballottaggio e dalle vittorie in molti comuni della Brianza tradizionale roccaforte di PDL Lega. Risultato ottimo, ci confermiamo a Sondrio già al primo turno, a Lodi molto bene, in tutte le città sopra i 15.000 abitanti un risultato soddisfacente per il centrosinistra e per il Partito Democratico in particolare. Risultato ottimo a Brescia dove siamo in parità, l'altra volta il centrodestra aveva vinto al primo turno, quindi notizie incoraggianti per il secondo. E' importante anche che i cittadini abbiano compreso che chi è contro tutti e non ha un progetto come talvolta è capitato per il Movimento 5 Stelle alla fine non può avere la fiducia degli italiani. Nel centrodestra il coordinatore regionale Lombardo del PDL Mantovani attribuisce i risultati deludenti alle divisioni interne nel partito che hanno dato vita a una fioritura di liste. Purtroppo nel Popolo della Libertà abbiamo avuto alcune divisioni per cui si sono presentate più liste, candidati che così hanno pensato che in proprio potessero raggiungere dei risultati così non è stato e ha prodotto ovviamente questa divisione. Dalla Lega Nord il segretario Lombardo Matteo Salvini non si dà per vinto e preannuncia battaglie in vista dei ballottaggi lanciando così le ultime due settimane di campagna elettorale. Parlare a quella metà degli elettori lombardi che ormai se ne fregano e dicono sono tutti uguali, non cambia niente, anche la Lega è più o meno come gli altri. No, io a questo non mi rassegno e quindi la fiducia di questa gente voglio andare a recuperarla casa per casa. Infine i grillini, Movimento 5 Stelle in caduta libera rispetto alle elezioni politiche di febbraio ma la consigliera regionale Silvana Carcano sostiene che le due tornate elettorali siano molto diverse e necessitino analisi differenti. Insomma per loro il confronto dovrebbe essere fatto con numeri delle precedenti elezioni amministrative e non con il successo eclatante ottenuto dal Movimento di Grillo lo scorso febbraio. E a proposito di Regione Lombardia, la giunta per le elezioni del Consiglio regionale della Lombardia ha contestato l'incompatibilità di cinque consiglieri e assessori regionali che hanno il doppio in carico. Si tratta di Mario Mantovani, senatore PDL e sindaco di Arconate, del consigliere Roberto Anelli della Lega, sindaco di Alzano Lombardo e Giulio Gallera del PDL che è anche amministratore delegato dell'ente accreditato della regione Ancitel. Poi Annalisa Baroni del PDL che è anche membro della fondazione del CDA Università di Mantova e di Corrado Tommasi del Partito Democratico, anche presidente della comunità montana della Valcamonica. Mantovani ha già annunciato le dimissioni del Senato ma la relazione della giunta delle elezioni sarà esaminata dal Consiglio regionale nella seduta dell'11 giugno. A quel punto i consiglieri e assessori dovranno scegliere. E sempre restando a parlare di Consiglio regionale, gli ex consiglieri regionali lombardi potranno ritirare i contributi versati durante il mandato in cui appunto hanno partecipato al Consiglio regionale. In totale si tratta di 15 milioni di euro. Vediamo. Via Libera da parte del Consiglio regionale della Lombardia ha la variazione di bilancio per i 15 milioni di euro necessari per pagare le indennità di fine mandato e la liquidazione degli assegni vitalizi agli ex consiglieri regionali insieme alla restituzione dei contributi versati. Un atto dovuto dopo il decreto sui costi della politica varato dal governo Monti e i tagli decisi sul finire della scorsa legislatura regionale dalla giunta Formigoni che non ha però evitato di far esplodere le polemiche. Sulle barricate il Movimento 5 Stelle che in un comunicato ha criticato il Via Libera l'erogazione di ingenti somme ad ex consiglieri quando nello stesso momento molti di questi sono chiamati dalla Corte dei Conti al pagamento di danni erariali. La somma è di natura previsionale basata sulla stima delle risorse necessarie nel caso in cui tutti i consiglieri optassero per la restituzione. Oltre 10 milioni di euro rientrano nella voce restituzione contributi che permetterà ai consiglieri regionali di ottenere i soldi che avevano accantonato ai fini dell'assegno vitalizio. 4 milioni e mezzo invece per gli oneri per le indennità di fine mandato. Larga intesa sulla delibera votata da tutti i partiti. Gli unici a non aver espresso parere favorevole sono stati i consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle. Il fatto che sia stato abolito il vitalizio e il trattamento di fine mandato riporta l'obbligo sostanzialmente da parte del Consiglio di restituire a chi lo richiede sostanzialmente i contributi versati. Ricordo che la scelta di abolizione del trattamento di fine mandato non è una scelta che hanno fatto tutte le regioni d'Italia. Il Consiglio regionale della Lombardia l'ha fatta. La cronaca una rapina ad una sala slot oggi alle 12.45 in Viale Corsica al bottino di 5 mila euro insieme a un blocco di assegni. Un nordafricano di circa 30 anni è entrato nella Lucky Room con il volto travisato da un cappuccio e da una bandana e ha minacciato con un coltello la cassiera una ragazza di 23 anni cinese. La giovane con l'arma puntata alla gola gli ha consegnato l'incasso e per fortuna quindi non ha riportato ferite e l'uomo poi è fuggito a piedi. Maxi sequestro di 15 milioni di oggetti pericolosi made in China da parte delle Fiamme Gialle, la Guardia di Finanza di Milano. I prodotti si trovavano in immensi capannoni, pensate come 20 campi da calcio, alla Chiarella vicino ad Opera nell'Interland milanese e quattro cinesi sono stati denunciati. Alberto Carrelas. Giocattoli, prodotti di bigiotteria, articoli casalinghi ed elettronici tutti made in China. 15 milioni di oggetti considerati pericolosi per la salute sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Milano in decine di capannoni alti circa 10 metri ciascuno. Un vero e proprio centro commerciale all'ingrosso alla Chiarella nell'Interland milanese. Quattro persone di origine cinese sono state denunciate. Gli investigatori hanno detto che si tratta di un'area grande come 20 campi di calcio, magazzini con 41 chilometri di scaffali stracolmi di merce passati al setaccio dai militari delle Fiamme Gialle. L'operazione denominata Terra Bruciata, condotta da un centinaio di finanzieri, è scattata sabato all'alba dopo vari pedinamenti e appostamenti in un'area industriale apparentemente semiabbandonata, da cui in realtà decine di camion prelevavano merci che poi distribuivano in tutta Italia. Ci sono voluti oltre due giorni per redigere i verbali e constatare le condizioni di insicurezza, inaffidabilità e scarsa cura nella conservazione dei prodotti. L'operazione è iniziata monitorando da dove arrivavano i camion che rifornivano numerosi negozi. Sono stati rinvenuti e sequestrati giocattoli, apparecchi elettrici ed elettronici privi del marchio CE, ma anche casalinghi e bigiotteria. Le fiamme gialle nel corso del 2012 hanno sequestrato complessivamente 38 milioni di prodotti pericolosi. Questo dimostra l'entità enorme di quest'ultima operazione che ha raggiunto quota 15 milioni di pezzi. Momenti di paura in centro questa mattina. Una telefonata minatoria che annunciava la presenza di una bomba, infatti, ha fatto scattare l'evacuazione della sede della Consob in via Broletto a Milano. La polizia è subito intervenuta sul posto. Il lavoro delle squadre che hanno bonificato gli uffici hanno dato esito negativo. Comunque si è trattato, come si sospettava, di un falso allarme. Quindi molta paura, ma per fortuna era un falso allarme. Domani è previsto lo sciopero di 24 ore dei 2.300 dipendenti SEA Handling. alinate a Malpensa. Sono previsti grossi disagi per i viaggiatori, anche se saranno rispettate le fasce di garanzia dalle 7 alle 10 e dalle 18 alle 21. I lavoratori che rischiano di perdere il posto di lavoro effettueranno due presidi di protesta davanti alla Prefettura e in corso magenta di fronte all'ufficio dell'Unione Europea. Inutile illudersi, sarà una giornata difficile e complicata per il trasporto aereo, quella di domani a Milano. Infatti incroceranno le braccia per la terza volta quest'anno i 2.300 lavoratori di SEA Handling che rischiano di perdere il posto di lavoro a causa della maximulta da 360 milioni di euro inflita dall'Unione Europea per presunti aiuti di Stato. Sulla società che si occupa di bagagli e servizi a terra incombe lo spettro del fallimento. È attesa a giorni una risposta da Bruxelles sulla richiesta di sospensiva inoltrata dal nostro Paese. In realtà, oltre ai 360 milioni della multa ci sono da pagare altri 90 milioni di interessi per un totale di 450 milioni di euro. Una cifra che fa impallidire tutti autorità, istituzioni, politici, dirigenti, SEA e lavoratori. Domani dunque sciopero di 24 ore allinate a Malpensa con due fasce di voli garantiti dalle 7 alle 10 e dalle 18 alle 21. Nonostante le due fasce, è facile prevedere comunque che i disagi per i viaggiatori saranno notevolissimi. Tutte le compagnie aeree hanno riprogrammato i voli per cercare di mettere nelle fasce di garanzia gli aerei con il maggior numero di passeggeri. Le informazioni sono in costante cambiamento. Dunque, prima di recarsi negli aeroporti milanesi è meglio controllare telefonicamente o attraverso internet la situazione del proprio volo. Alinate, l'impatto dell'agitazione dovrebbe avere un maggior contraccolpo, visto che tutto lo smistamento bagagli è gestito da SEA Handling, mentre a Malpensa operano anche altre società. I lavoratori SEA con i sindacati CGL e Cisle Will hanno annunciato che domani organizzeranno due presidi. Uno in corso Monforte davanti alla Prefettura e l'altro in corso Magenta davanti all'ufficio dell'Unione Europea. Cambiamo argomento, parliamo una notizia positiva per Milano perché è Roma la capitale dei consumi di cocaina e non Milano, come comunemente si pensa. Lo ha detto il capo del Dipartimento Nazionale Politiche Antidroga Giovanni Serpelloni, rendendo noti alcuni dati della relazione al Parlamento 2013 che sarà presentata nelle prossime settimane. I dati delle analisi delle acque reflue dimostrano che il maggior consumo sia a Roma, ha spiegato, seguita da Napoli, e poi, solamente dopo, arriva Milano. Si è svolto questa mattina in Duomo, a porti chiuse, la convocazione straordinaria dell'intero clero ambrosiano voluta dal Cardinale Scola per rendere pubbliche le linee programmatiche che guideranno il prossimo anno pastorale della Diocesi di Milano e quelle che affrontano i cosiddetti cantieri aperti sino ad oggi dalla Chiesa Ambrosiana. Sentiamo Anna Maria Braccini. La Chiesa che non è un partito e che non vuole egemonizzare ma testimoniare e che proprio per questo non alza bastioni ma intende percorrere le vie incontro all'umano. Questa è la Chiesa di Milano che il Cardinale Scola sogna e racconta ai suoi preti giunti in massa oltre 1600 in Duomo per l'atteso e straordinario raduno del clero ambrosiano nel quale anzitutto si prega e si professa la propria fede nell'anno della fede ma vengono anche comunicate le linee sui quattro cosiddetti cantieri aperti della diocesi e così altrettante relazioni definiscono i percorsi futuri riguardanti il rito ambrosiano con la possibilità ad esempio di un'abbraviazione delle letture poi le comunità pastorali che non sono l'unica strada per la necessaria pastorale d'insieme e che d'ora in poi prevederanno una diaconia che attuerà la decisione del consiglio pastorale e poi l'ingresso dei neosacerdoti nel ministero nella vita parrocchiale insomma che inizierà l'ultimo anno di seminario in quella stessa comunità proseguirà per cinque anni fino al grande tema dell'iniziazione cristiana per i fanciulli che non è solo questione di sacramenti ma di una maturazione della vita della fede e che comunque vedrà la confessione la prima comunione e la cresima celebrati in quest'ordine in tempi distinti entro l'undicesimo anno di età e infine il cardinale che spiega con settembre la lettera pastorale il campo e il mondo guiderà l'azione di una chiesa sempre più missionaria e sinergica con le sue articolazioni ma anche con i movimenti e le associazioni il criterio di azione sarà la testimonianza e non l'egemonia noi non vogliamo conquistare nessuno la chiesa non è un'organizzazione un partito noi non siamo degli agit prop e sarà un'apertura a 360 gradi evangelizzare la metropoli e lo faremmo invitando talune diocesi grosse come le nostre che hanno già cominciato questo lavoro Vienna per esempio Manila per esempio Parigi per esempio cambiamo ancora argomento alle 16.30 oggi pomeriggio nella sala consiglio di Palazzo Isimbardi l'assessore alle pare opportunità della provincia di Milano Cristina Stancari ha premiato i vincitori del concorso di cortometraggi rompere il silenzio stop della violenza di genere per partecipare al concorso rivolto a ragazze e ragazzi dai 14 ai 20 anni che hanno frequentato la scuola superiore ai centri di aggregazione giovanile della provincia di Milano i giovani hanno dovuto produrre un cortometraggio che denunciasse una situazione di violenza o abuso subiti dalle donne c'erano Marina Lazzati e Paolo Del Nero cioè assessori alle istruzioni al lavoro della provincia di Milano Agnese Tacchini presidente della commissione pari opportunità della provincia di Milano e Liliana Olivieri presidente dell'associazione diamo voce a chi non ha voce torna mito il festival della musica che dal 4 al 21 settembre porterà tra Milano e Torino ecco appunto il perché del termine mito 209 eventi di cui 183 concerti dalla musica classica al jazz dalla musica contemporanea a quella elettronica all'evento ripercorrà così la storia della musica italiana vediamo festival di tutte le musiche mito settembre musica il palcoscenico ideale per ripercorrere le storie della musica che attraversano i differenti generi dall'antica alla classica fino alla contemporanea dal jazz alle espressioni più innovative della musica elettronica dal 4 al 21 settembre per 18 giorni Milano e Torino diventano un unico grande palcoscenico e offrono occasioni imperdibili per accostarsi a proposte artistiche diverse e di grande valore 209 appuntamenti in 99 spazi canonici e non solo sale da concerto auditorium chiese piazze cortili musei e palazzi di cui 183 concerti la presentazione del festival è avvenuta questa mattina all'interno della sala Lessi di Palazzo Marino presente il sindaco Giuliano Pisapia che ha ribadito l'importanza della collaborazione tra Milano e Torino per il festival della musica è un grande evento musicale che unisce le due città che rafforza la cultura nelle due città e soprattutto che si rivolge a tutti perché ci saranno tanti spettacoli gratuiti tanti a costi molto limitati e quindi è una ricchezza per la città direi una ricchezza per il paese per Milano e Torino il concerto inaugurale sarà alla scala di Milano per poi essere replicato il giorno dopo al Teatro Reggi di Torino tra i tanti artisti saranno presenti anche Uto Ughi Eugenio Finardi e Antonello Venditti e infine Francesca Colombo coordinatrice artistica della manifestazione ha lanciato anche un piccolo allarme sui tagli ai finanziamenti e sulla crisi purtroppo la crisi c'è la crisi si sente e noi siamo passati da un finanziamento da un budget che era la prima edizione di 11 milioni di euro su Milano e Torino insieme oggi siamo circa a 5 milioni quindi si è praticamente più che dimezzato prima di chiudere adesso come al solito vi anticipo i programmi della nostra serata perché a seguire il TGN andrà in onda Nova Stadio Sprint con Michele Marchetti e i suoi ospiti alle 22.10 portofolio la nostra rubrica economica condotta da Davide Romano i suoi ospiti consiglia anche su come tutelare meglio i nostri risparmi noi ci vediamo alle 23 per il TGN della notte con questo questa edizione termina qui c'è la sigla c'è la pubblicità e poi per chi desidera lo spazio dedicato alla borsa e poi al meteo arrivederci